Musica Bentrovati anche quest'oggi su CTS Notizie per questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca Una maxi operazione di contrasto al narcotraffico è stata messa a segno dalla polizia che all'alba di questa mattina a Palermo ha arrestato 8 persone L'accusa per loro è di traffico e spaccio di cocaina, eroina e hashish, sequestrati anche circa due quintali di droga Vediamo La polizia di Stato ha arrestato a Palermo 8 persone per traffico e spaccio di cocaina, eroina e hashish Sequestrati circa due quintali di droga, le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state messe dal GIP Su richiesta della direzione di settore antimafia del capovoco siciliano L'indagio della sezione antidroga della scuola mobile di Palermo è durata circa un anno e mezzo Operazione denominata vai e vieni è partita da spunti investigativi ottenuti dalla sorveglianza di alcuni giovani spacciatori in città E ha portato all'arresto di più soggetti legati a Cosa Nostra Il business della droga quindi si conferma molto forte e fortissimo è anche l'interesse delle organizzazioni mafiose Che sono tornate con papotenza ad occuparsi di polvere bianca per rimpinguare le casse dell'organizzazione Il via delle indagini, cordiale dal procuratore aggiunto Teresa Principato, è nato dal filo del personale della sezione antidroga della scuola mobile Gli agenti infatti si sono messi subito alle carchine di alcuni pusher e partendo dal basso hanno ricostruito la rete che stava dietro il grande affare della droga Nelle piazze per mila dello spaccio aggiungevano dunque cocagine, eroine e ascice E a organizzare il traffico e smercio si ebbero state 8 persone raggiunte da altrettante ordinanze di custodia colterare in carcere Richieste dalla direzione distruttuale antimafia di Paermo Possibile altro azzeramento della giunta crocetta, la decisione potrebbe essere arrivata subito dopo il vertice a Roma con alcuni esponenti nazionali del Partito Democratico Ne parleremo subito dopo la pubblicità, restate con noi Stop! Hai topi di appartamento Metti in sicurezza i tuoi beni più cari con Blindo Casa Antica falegnameria Produzione di porte blindate di massima sicurezza Porte in legno massello Infissi in PVC e alluminio legno Blindo Casa inoltre permuta i vostri vecchi infissi Porte interne a partire da 180 euro Showroom via la regione siciliana numero 450 Blindo Casa Assistenza 24 ore 393 970 66 55 Blindo Casa La scelta sicura La Sicilia muore Ma si può ancora salvare E' indispensabile imboccare subito la strada della crescita Perché accada La classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni Affinché diventino efficienti Perciò serve l'informazione investigativa Propositiva ed efficace Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia Per lo sviluppo e l'occupazione Ma questa tosse sì che questo bruciore risofoco le vengono la mattina Ma lei ha un'ermia iatale mi scusi Si macron 300 uno al giorno Ma si figuri Non mi disturbo Abbiamo scherzato Ora parliamo di una cosa seria Dobbiamo aiutare la ricerca sulla fibrosi cistica E' una malattia gravissima Per questo dobbiamo sostenere la fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Per trovare una dura Facciamolo Ma facciamolo adesso Rieccoci in studio Parliamo di politica regionale Rosario Crocetta potrebbe ancora una volta cambiare le carte in tavola Dopo il vertice a Roma con alcuni esponenti del Partito Democratico Il governatore della Sicilia potrebbe azzerare la giunta Per evitare la censura della scilabra E riaprire il dialogo con cuperliani e dissidenti della maggioranza Sentiamo Azzeramento della giunta Crocetta e delle cariche istituzionali di partito del PD E' questo ciò che il PD romano ha chiesto a Crocetta per ripartire L'obiettivo è quello di accelerare le riforme funzionali Anche per salvare la Sicilia dal crack finanziario Aprendo una linea di credito con lo Stato Per recuperare i 2 miliardi di euro che servono per chiudere il bilancio 2015 Crocetta sottoporrà la sua proposta agli alleati in un vertice di coalizione Intanto la maggioranza chiederà in conferenza dei capigruppo all'Arsi Il rinvio della mozione di censura all'assessore alla formazione Nelli Scilabra La mozione di censura dovrebbe essere rinviata giovedì Ma a quel punto sarà disinnescata il giorno prima dell'azzanamento della giunta Ma dietro le beghe di partito sul tavolo del governatore rimane il voto della finanziaria E la piazza reclama a gran voce lavoro Sul piede di guerre forestali insieme agli operatori della formazione Che attendono a mesi numerose mensilità Ma soprattutto la riorganizzazione definitiva del settore Crocetta è intervenuto a piazza pulita e ha difeso a gran voce proprio i forestali I presidenti delle altre regioni hanno sottolineato il numero sproporzionato di queste figure Ma Crocetta ha evidenziato che in realtà queste persone vengono pagate per un numero molto limitato di ore Dibattito e studio anche sugli enti carrozzoni come l'Arsea Crocetta ha ammesso che questo ente dovrebbe essere abolito Ma ancora a Sala d'Ercole da un anno non si riesce a raggiungere l'intesa per la sua abolizione E la riforma della formazione era e resta necessaria Secondo il presidente della regione Rosario Crocetta Che attacca la vecchia politica puntando il dito contro i capigruppo del passato Lei secondo il governatore di essersi spartiti i corsi con alcuni esponenti del governo Ascoltiamo Arriva un nuovo affondo del presidente della regione Rosario Crocetta Sulla formazione professionale in Sicilia Che riferendosi al decennio 2002-2012 definisce un'immensa tabella H A pochi giorni dalla conferenza stampa il governatore parla di un metodo Che ha coinvolto gran parte del sistema politico siciliano Nel gioco parassitario delle spartizioni tra partiti e all'interno dei partiti Del numero di corsi e delle ore da assegnare Con vicende al limite del voto di scambio Quando in prossimità di elezioni si aumentavano le ore di specifici enti Che dovevano servire a portare voti a consiglieri comunali, provinciali e deputati regionali Un sistema che ha visto quasi triplicare i dipendenti da 3.000 a 8.000, ha aggiunto il presidente Per arrivare ad assunzioni avvenute in pieno divieto di legge Anche in occasione delle recenti elezioni del 2013 Questo sistema ha visto incrementare sempre di più il budget della formazione professionale Che in alcuni momenti è arrivato a 500 milioni di euro l'anno La politica, ha detto, abbia il coraggio di parlare dei tavoli In cui i capigruppo e gli esponenti del governo si vedevano per spartirsi i corsi Come avveniva con la tabella H Intanto i sindacati sul piede di guerra a Palermo confermano lo sciopero per mercoledì 22 ottobre Dal governo solo proclami e niente risposte concrete sul futuro del settore della formazione e dei suoi lavoratori La Will Sicilia non ha più dubbi e per questo scenderà in piazza indipendenza a Palermo Per lo sciopero generale della categoria E si avvicina l'ora X per gli operai della GESIP Il sindaco di Palermo, Luca Orlando, ha assicurato a più riprese Che saranno ricollocati nelle società partecipate del comune Ma intanto il termine per l'accorpamento si avvicina e si rischia un nulla di fatto Sentiamo Alla fine dell'anno potrebbero esaurirsi le speranze dei lavoratori della GESIP L'ex municipalizzata del comune di Palermo Sarà questa infatti la scadenza della cassa integrazione in deroga E di un possibile rinnovo attualmente non si hanno notizie È un futuro incerto quello dei 1555 dipendenti Anche per quanto riguarda le possibili mansioni che questi andrebbero a svolgere In caso di mobilità verso altre aziende In allarme i sindacati e la protesta è pronta a esplodere Se non arriveranno risposte e soluzioni celeri Da mesi la prospettiva della mobilità orizzontale degli operai Verso le altre ex municipalizzate È allo studio della cabina di regia attivata dal comune A farsi più concreta al momento È l'ipotesi di prepensionamento e assegni di accompagnamento Per 600 dei 1555 lavoratori Resta da decidere il futuro dei restanti 950 Da ricollocare Ma in vista dell'imminente scadenza Sull'accorpamento delle società partecipate Come sarà possibile effettuare questa operazione? È l'interrogativo del consigliere comunale Angelo Figuccia Ancora nessuna risposta Ma la terza commissione consigliare Ha convocato i presidenti delle partecipate Per una prima consultazione Cambiamo argomento Nuovo sbarco a Palermo Sono giunti in 281 al porto del capologo siciliano I migranti salvati nei giorni scorsi nel canale di Sicilia Dalla nave Fiorillo E che adesso saranno ospitati dalla Caritas Sentiamo Sono arrivati al porto di Palermo I 281 migranti Recuperati nei giorni scorsi nel canale di Sicilia Dalla nave Fiorillo Sono quasi tutti nuclei familiari Come si vede da queste immagini In prevalenza provenienti dalla Siria Dal Senegal Dal Ghana Dal Mali Dalla Nigeria Sull'imbarcazione ci sono anche 35 donne Di cui una in gravidanza E 17 minorenni Già da ore sul molo puntone Sono a lavoro i volontari della Croce Rossa E della protezione civile regionale e comunale Il team dell'ASP è composto da 22 persone Ha predisposto tettriage Due riservate agli uomini E uno alle donne e ai minorenni Le procedure come il protocollo richiede Sono state eseguite scrupolosamente A coordinare le operazioni Il prefetto di Palermo Francesca Cannizzo Poi i migranti saranno accompagnati Nei centri gestiti dalla Caritas Che come sempre si è fatta avanti Per accogliere i migranti Saranno accolti nella sede di Villaggio Ruffini Di San Carlo e di Giacalone Ma rimarranno in città soltanto per poche ore Infatti sono stati predisposti dei voli Per le altre città italiane E dei pullman diretti a Messina Parla così il direttore della Caritas Don Sergio Mattaliano Ancora una volta siamo qui In questo luogo Che è l'accoglienza al porto Per dare le prime Le prime emergenze Sono le prime accoglienze Sono riguardo appunto queste famiglie Che arrivano sicuramente dalla Libia Sono famiglie siriane E daremmo i primi soccorsi Le prime necessità sono riguardanti sicuramente Il cibo L'acqua E poi li rivestiamo E stiamo accompagnando In alcuni centri pastorali nostri Daremmo i primi soccorsi Insieme all'asle di pertinenza E per questa notte E sempre più spesso Purtroppo siamo costretti A parlare di viaggi della speranza Finiti in tragedia Quello che stiamo per mostrarvi È invece l'epilogo Di una storia Di un giovane ganese Che in Sicilia A Enna per la precisione Ha trovato lavoro e amore Decidendo così di restare Dove pensava di essere Soltanto di passaggio Vediamo Doveva essere un luogo di passaggio Verso altri stati europei Ma grazie a una buona dose Di forza di volontà E un pizzico di fortuna Enna si è trasformata Nella sua nuova terra Che gli ha regalato Un lavoro e l'amore E la storia è letto fine Di un giovane 27enne ganese Rashid Bigway Arrivato nel capoluogo siciliano Diversi anni fa Dalla Libia Il suo sbarco in Sicilia È avvenuto insieme Ad altri 23 suoi connazionali Tutti scappati dal paese Per la guerra civile Rashid si era stabilito In Libia da 4 anni E lavorava per un'azienda turca Che costruiva strade Quando è iniziata la guerra Nel 2011 Però aveva capito Che gli stranieri Erano in pericolo E così con una nave soccorso Si è imbarcato da Tripoli Verso la Sicilia Rashid arriva a Enna In un centro di accoglienza Per Gusa In cui si è trovato subito bene Senza avere mai avuto Alcun problema con la gente Complice il tempo libero Che aveva a disposizione Rashid forma una squadra di calcio Che gli dà la possibilità De conoscere tante persone Il suo desiderio però È lavorare E rendersi utile Così una mattina di novembre Del 2011 Si reca sulla strada principale Di Per Gusa E inizia a pulire La carreggiata dalle erbacce Un'attività che non passa Inosservata A Roberto Angileri Amministratore delegato Della ProSeme Che si ferma a complimentarsi Lasciando il suo recapito telefonico Passano poche settimane E il ragazzo Va a trovare Angileri In azienda Inizia così L'avventura di Rashid Da un lavoro stagionale Arriva anche il matrimonio E la sua nuova vita in Sicilia Oltre il danno La BEF Dopo l'abbattimento Dell'ecomostro Che era stato realizzato Alla scala dei turchi La SCATUR Società proprietaria Della struttura Chiede adesso Un risarcimento Da 16 milioni di euro Al comune di Real Monte La richiesta È già stata presentata Al Tar Dal quale si attende adesso Una pronuncia In merito i dettagli Nel servizio Passa al contrattacco La SCATUR E la società proprietaria Del cosiddetto Ecomostro Abbattuto Alla scala Dei turchi I soci Hanno depositato Al Tar Sicilia Una richiesta Di maxi Risarcimento Danni Nei confronti Del comune Di Real Monte La ditta Pretende 722 mila euro Per i danni Relativamente Alla costruzione Del manufatto A cui vanno Ad aggiungersi 20 mila euro Per le spese legali E ancora 500 mila euro Per il danno subito A seguito Della svalutazione Del terreno E 15 milioni Di euro Come utili Potenzialmente Derivanti Dal funzionamento Dell'albergo Progettato E infine 3 milioni Di euro Sono state richiesti Per l'attivazione Delle residence Dunque ancora Non è scritta La parola fina La lunga vicenda Giudiziaria Legata alla realizzazione Del cosiddetto Ecomostro Real Monte Datata Inizio anni 90 Una vicenda Scandita Da presunte Irregolarità Colminata Anche con Arresti Eccellenti Che hanno Riguardato Funzionari Amministratori Comunali E imprenditori La parola fine Sembrava Fosse stata messa Il 6 giugno 2013 Con l'abbattimento Dei primi scheletri Alle 9 in punta Il primo colpo Di ruspa Dello scheletro Dell'edificio Cominciato a costruire Nel 1989 A due passi Dalla celeberri Mascogliera bianca In cui alcuni Imprenditori Volevano realizzare Un albergo Era stata la stessa Scatur La ditta proprietaria Da recorso All'ordinanza Di demolizione Ripristino Dei luoghi Firmata dal sindaco Piero Puccio Nei giorni successivi Le ruspe Entrarono in azione Per abbattere Altri e comostri Stavolta in zona Lido Russello Adesso la presa Di posizione Della società Scatur Con la richiesta Di un max risarcimento D'anni L'impressione Che si è al primo tempo Di una lunga partita Giudiziaria Possibile svolta Nelle indagini Che riguardano Gli spiegabili Incendi Di Canneto Di Caronia Ci sarebbe infatti Un uomo Finito nel registro Degli indagati Matrice dolosa Però alla quale Non crede Il sindaco Del piccolo comune Sentiamo C'è un uomo Indagato Nell'ambito Dell'inchiesta Sui misteriosi Incendi Di Canneto Di Caronia Si tratta Di un giovane Di 25 anni Che secondo L'accusa Avrebbe incendiato In più occasione Alcune Suppellettine Di casa Nell'intento Di fargli Rientrare Tra gli incendi Spiegabili E ottenere Così Un eventuale Risarcimento E in effetti A casa sua Vi fu proprio Un rogo Lo scorso 28 luglio Il padre Del ragazzo Nino Fra l'altro E il presidente Del comitato Di cittadini Che si è costituito Dopo gli incendi Spiegabili Incendi che iniziarono Nel 2004 E in quell'occasione La protezione civile Istituì un gruppo Per studiare Gli strani fenomeni E la procura Di Mistretta Apri un'indagine Poi archiviata Quest'anno Dopo un periodo Di relativa normalità Si sono verificati Altri casi di combustione Senza alcun Apparente motivo In paese Ovviamente C'è incredulità Tutti dicono Che il ragazzo È sempre stato In prima fila Nello spegnimento Delle fiamme Pronte ad aiutare Tutti gli abitanti Del paese E più volte Si è ostinato E anche ferito Controlli a tappeto A Messina Per contrastare La piaga Del lavoro nero I carabinieri Del nucleo ispettorato Del lavoro Hanno sospeso Tre cantieri Edili Al culmine Di 29 ispezioni Dettagli I carabinieri Del nucleo ispettorato Del lavoro E del comando Provinciale Di Messina Nell'ambito Di servizi Finalizzati All'emersione Del lavoro nero A Messina E provincia D'intesa Con il direttore Della direzione Territoriale Del lavoro Di Messina Hanno proseguito La vigilanza Ispettiva In diversificati Settori commerciali E in edilizia Puntando l'attenzione Anche sull'uso Non autorizzato Di impianti Di videosorveglianza I militari Complessivamente Hanno ispezionato 29 aziende E verificato 85 posizioni lavorative Scoperti Sette lavoratori Del tutto privi Di tutela assicurativa E previdenziale Ovvero Completamente in nero Intimato La sospensione Delle attività Imprenditoriali In tre cantieri Etili Di pertinenza Delle ditte ispezionate Avendovi riscontrato Insieme agli ispettori civili Una percentuale Di lavoratori in nero Superiore al 20% Della forza lavoro presente Gli imprenditori Per ottenere La riapertura Delle attività Hanno dovuto Regolarizzare I dipendenti in nero E versare Parte delle sanzioni Amministrative Per un complessivo Di 5.850 euro E dovranno Successivamente Versare Contributi Previdenziali Assistenziali Obbligatori Non corrisposti A conclusione Delle attività Intraprese Sono state contestate Sanzioni amministrative Per circa 30.000 euro Secondo le intese Fra la direzione Territoriale Del lavoro E il comando Provinciale Carabinieri Le attività Di controllo Continueranno Anche nei prossimi giorni Al fine di verificare L'osservanza Nei confronti Del personale Occupato Delle norme Di tutela Dei rapporti Di lavoro Di legislazione Sociale Di igiene E sicurezza Nei luoghi Di lavoro E torniamo a Palermo Perché è in piena Emergenza Il canile Di via Tiroassegno Dopo i guai Inerenti Le condizioni Igeniche Della struttura Adesso scoppia Anche il caso Del sovraffollamento Che aggrava Una già difficile Situazione Entro la fine Dell'anno Così circa 300 ospiti Saranno trasferiti In altri rifugi Sentiamo E emergenza Sovraffollamento Al canile Municipale Di Palermo Entro la fine Dell'anno Una parte Di questo E l'ex Mattatoio Saranno Sgomberati Al bando Del comune Per fronteggiare La situazione Emergenziale La scorsa Settimana Hanno risposto Solo i rifugi Di Isnello E Casteldaccia Nei quali Saranno trasferiti Circa 300 cani Lo hanno deciso L'assessore Alverde Francesco Maria Raimondo Il dirigente Del servizio Igiene e Sanità Maurizio Pedicone E il dirigente Del servizio Veterinario Del canile Francesco Francaviglia Noi stiamo Facendo il possibile Per accogliere Tutti i cani A ferma Pedicone Non possiamo Lasciarli per strada Per questo Ci prendiamo La responsabilità Oltre le nostre competenze Di prendere cani Purs Di salvarli Dalla strada Attendiamo I finanziamenti Dall'amministrazione Comunale E il risultato Delle ispezioni Nei tre canili Prima di affidare L'appalto Gli spazi Di via tiro A segno Verranno svuotati Per trasformare La struttura In un presidio sanitario I lavori Erano già stati Assegnati A una ditta Appaltatrice Ma non erano Ancora partiti La struttura Non era stata Svuotata Completamente Per i continui Arrivi Di nuovi cani Un'altra breve pausa Pubblicitaria Rientro in studio Parleremo di sport Con il calcio Restate con noi Saffir Nata con prerogative Di alta qualità Oggi Saffir È l'industria Per la sicurezza Che senza smentire Un passato Esclusivamente artigianale Abbina tecnologie Molto raffinate E moderne All'esperienza In manualità Che da sempre La contraddistingue Saffir La sicurezza Dei tuoi beni Più cari Comunica Comunica Codice 202 in atto Sul Palermo 98 Andi in appoggio Anche alla me Global Security International Gli specialisti Della vigilanza E della sicurezza Personale altamente qualificato Pronto intervento Controllo attività commerciali Con tecnologie innovative Global Security International Servizi di scorta Radio e telecamere Telesoccorso 24 ore su 24 Vigilanza notturna e diurna Vigilanza fissa Punzonature Trasporto valori Global Security International Consorziato Sicurgem Contattaci per la tua sicurezza Chicovo Un amore nuovo E siamo allo sport Il calcio Il Palermo Forte della prima vittoria In campionato Si prepara ad affrontare La Juventus In trasferta Una partita A dir poco Proibitiva Ma in rosa nero Potranno contare Sull'importante apporto Dei nuovi Finalmente disponibili Il servizio I nuovi iniziano a dare una mano E il Palermo Inizia a vincere Equazione fin troppo semplice Che avrà bisogno ovviamente Di ulteriori verifiche Ma che perlomeno regala Beppe Iachini Un attimo di tranquillità Prima della super sfida Contro la Juventus Il ritiro in Friuli Ha rigenerato Una squadra spesata Dopo il 3-0 Subito ad Empoli E l'inserimento graduale Dei nuovi È potuto avvenire Con maggiore calma Approfittando anche Della pausa Per le nazionali Che ha fatto sì Che il gruppo Guidato dal tecnico Marchigiano Si potesse amalgamare Ulteriormente Vecchi e nuovi Giovani ed esperti Tutti insieme Hanno capito Quale strada Intrapendere E lo hanno dimostrato Col Cesena Una vittoria meritata Anche se arrivata Solo sul gong E guarda caso Grazie ad uno Dei nuovi arrivati Di Pippo Gonzales Si è parlato a lungo Sin dal suo arrivo a Palermo Perché il suo ruolo Di marcatore centrale Nella difesa 3 È a dir poco problematico Da almeno due anni Gasperini e Sannino Hanno fallito L'esperimento Donati Terzi è stato altalenante Sia sotto Gattuso Che sotto Iachini Milanovic Passa dall'essere Il nuovo Chi avanza Alla tribuna fissa Con una facilità Disarmante Ora tocca Al Costaricense Prendere in mano Le redini Del reparto Arretrato Rosanero Che intanto Per subire un gol Ha dovuto regalare Un calcio di rigore Dopo le dieci reti incassate Nelle ultime tre partite Buon segnale Così come i pochi pericoli Passati davanti a Sorrentino La ciliegina sulla torta È stato quel gol Arrivato a tempo ormai scaduto Premio Ad una partita Giocata meglio Dal Palermo E nella quale Gonzales Non ha affatto patito Nell'esordio In massima serie Da oggi Intanto Si pensa Alla Juventus Lo staff sanitario Spera di recuperare Edgar Barreto Ultima spiaggia In serie B Per il Catania Troppe le occasioni Sprecate Troppi infortuni E qualità Del gioco scadente Bisogna rialzare la testa E subito a partire Dal doppio turno Casalingo Contro Vicenza Dentella Che se non porterà Sei punti Condannerà la squadra Ad un inevitabile Ridimensionamento Delle ambizioni Il servizio Poca voglia di parlare Ma tanta di ricominciare A lavorare Per preparare al meglio Le due partite casalinghe Contro Vicenza E Entella Che potrebbero cambiare La classifica Dei rossazzurri Per adesso Ultimi Il Catania Porta ancora le ferite Della sconfitta Di La Spezia Ma il mister Sannino Ha chiesto alla squadra Di voltare pagina Pensando già Alla prossima partita La squadra Ha svolto un primo Allenamento settimanale Lo ha fatto ovviamente A Torre del Grifo Calciatori E tecnici In campo nel pomeriggio Completata la fase Di riscaldamento Il gruppo si è dedicato Alla cura Del possesso palla Nel contesto Di approfondimenti Dieci contro dieci Alternando esercitazioni Tecnico-tattiche E sessioni Di lavoro aerobico Il Catania Si allenerà anche A porta aperta A Torre del Grifo I tifosi quindi Avranno la possibilità Di assistere Alla seduta Dei rossazzurri Un déjà vu Invece per il Trapani Risolto nel migliore Dei modi Battendo in maniera netta Il crotone Al provinciale Dopo la scopola Di Livorno La squadra di Boscaglia Doveva dare una prova Di forza in casa Così come fatto Con Latina Dopo la goleada Subita a Varese La reazione è arrivata E contro il crotone Granata Hanno ripreso la loro marcia Interrotta bruscamente In terra toscana Una sfida Quella contro i calabresi Allenati da Drago Che ha visto andare Nuovamente a segno Matteo Mancosu Protagonista nel match Della rinascita Trapanese Dovevamo reagire Ha messo il buon Bresardo E ci siamo riusciti Alla grande E per il momento è tutto Vi saluto a qui Vi ringrazio per l'attenzione Adesso le notizie Dall'Italia e dal mondo Arrivederci Oscar Pistorius È stato condannato A cinque anni di carcere Annunciata oggi Ufficialmente La pena Per il campione paralimpico Che era stato già Riconosciuto colpevole Dell'omicidio colposo Della fidanzata Riva Stenkamp L'accusa Aveva chiesto Dieci anni Dopo la lettura Del giudice Pistorius È stato condotto Nel carcere Di Pretoria Atteso domani Un primo giudizio Di Bruxelles Sulla legge italiana Di stabilità La Commissione europea Potrebbe chiedere chiarimenti Sul testo Da 36 miliardi di euro Nodo principale La decisione del governo Di rinviare il pareggio Di bilancio Al 2017 Tecnici di Palazzo Chigi E del Tesoro Sono a lavoro Sulla limatura Del provvedimento Venite alla Leopolda Si discute di politica Alla direzione del PD Di ieri Renzi ha invitato La minoranza democratica Alla chermessa Organizzata Per il fine settimana A Firenze Tra gli interventi critici Quelli di Cuperlo e Fassina Che accusano Renzi Di aver dato vita Ad un partito parallelo Perquisizioni e sequestri Della guardia di finanza In tutta Italia In un'inchiesta Su un'evasione fiscale Miliardaria Indagate dalla procura Di Roma 62 persone Per bancarotta Fraudolenta Riciclaggio E utilizzo di fatture Per operazioni Inesistenti Coinvolte società E cooperative attive Nei settori Trasporto Facchinaggio Pulizia E vigilanza privata In arrivo Dalla serata di oggi Una nuova ondata Di maltempo Che porterà Ad un brusco calo Delle temperature Allerta meteo Della protezione civile Per venti di burrasca E tempeste sulla Sardegna Piogge e temporali Sul friuli Venezia Giulia Sul Levante Ligure E Alta Toscana Intensificati Nelle ultime 24 ore Dalla coalizione Anti-ISIS A guida americana I raid contro gli jihadisti In Siria e in Iraq Attacchi aerei Su Kobane Dove i kurdi Sono assediati Da oltre un mese Ankara Ha deciso Di appoggiare Attivamente la resistenza Aiutando i peshmergheira Kenia Ad entrare in Siria Attraverso il territorio turco Morto all'età Di 82 anni Lo stilista dominicano Oscar De La Renta Malato dal 2006 Divenuto famoso Vestendo Jackie Kennedy Era particolarmente presente Sui red carpet Una delle sue creazioni Più recenti È stato l'abito Da sposa Di Amal Alamuddin Nel matrimonio a Venezia Con George Clooney L'abito 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 Grazie a tutti.